Buongiorno e benvenuti nella segna stampa di oggi lunedì 10 luglio. I temi fondamentali sui giornali riguardano ancora l'immigrazione. Il Corriere della Sera oggi titola sull'immigrazione il solito titolo che noi abbiamo in genere ad agosto, a luglio, a giugno, cioè quando inizia l'estate la bella sessi giorni, Sbarchi Record. Avrò letto questo titolo mille volte ma oggi il clima è un po' diverso perché la sinistra sta cambiando idea. Il dato fondamentale è quello del segretario del più importante partito di sinistra, Renzi, che dice che vuole un numero chiuso, qual è la sua frase? Aiutarli a casa loro invece che aiutarli qua. E Renzi ieri fa anche lo sbruffone come spesso gli capita e dice a chi lo accusa, soprattutto a sinistra, di fare leghista, dice che la Lega ha portato in Africa solo diamanti, riferendosi al caso di Belsito, noi investiamo in cooperazione internazionale. Purtroppo Renzi ha questo difettaccio, cioè quello di fare sempre l'arrogante, però sull'immigrazione non gli viene molto bene perché è smerdato, come si dice a Roma, in brutto termine, da due situazioni. La prima è quella che gli ha fatto vedere la sua amica, la sua amichetta Bonino, e cioè gli ha detto, e c'è su tutti i giornali, che l'accordo Triton, quello firmato nel 2014, e che fa sì che anche le barche e le navi che non battano bandiera italiana, quindi che battano bandiera straniera, devono depositare in Italia coloro che vanno a salvare, e questo accordo l'ha fatto Renzi, non Babbo Natale. E la seconda cosa, la svela oggi, secondo me è molto interessante l'apertura del Il Giornale, in cui si vede quanti soldi spendiamo in cooperazione internazionale, già su questo io diminuirei della metà le spese in cooperazione internazionale, penserei a fare molta più cooperazione a casa per quelli che stanno male qua, ma comunque, questo verrebbe considerato egoismo, ma comunque noi spendiamo in cooperazione internazionale, secondo i dati del giornale del 2016, 4,8 miliardi, e famosi questi soldi che dice Renzi di aver speso all'estero, ma in realtà non è vero che li ha spesi all'estero, perché il 34% di questi 4,8 miliardi, cioè 1,6 miliardi, sono stati spesi in Italia per l'accoglienza, quindi non è vero che va a spendere, a differenza della Lega, i soldi all'estero, non in diamanti ma in cooperazione, ma gran parte di quei soldi, dei contribuenti italiani, dei nostri soldi, sono spesi per accogliere gli africani in Italia, chiaro? Quindi non diciamo minchiate. Pisapia, che è diventato un interlocutore della sinistra fondamentale, piace a Repubblica, piace a tutti quelli a cui non piace il destro Renzi, continua invece sulla sua idea folle per la sinistra dell'accoglienza a tutti i costi, però ricorda a Renzi anche le sue contraddizioni, come quella di Triton, un'altra cosa che mi ha molto interessato è il cambio di clima, oggi leggo la Sarzanini, sul Corriere della Sera, che scrive che è previsto un pattugliatore della Guardia di Finanza Italiana in acque lipiche, e sapete cosa scrive la Sarzanini? che viene considerato come deterrente nei confronti delle organizzazioni non governative che vanno sotto costa a soccorrere i migranti. Ma come? Non era una fake news quella che le ONG andavano sotto costa a soccorrere i migranti? Non ci avete spiegato che quella era una follia fatta da il blogger Donadel, da Salvini che lo seguiva, da Striscia la Notizia, da Matrix, da tutti noi che l'abbiamo rimandata in onda quella cosa qui? E adesso scopriamo che c'è un pattugliatore della Guardia di Finanza, ce lo scrive la Sarzanini che sta lì, ma non diciamo minchiate, purtroppo è così. Divertente la tesi di Feltri sul libro, oggi il libro ha una giornata di buona forma, ci sono molti articoli che vi cederò, perché cosa dice oggi Feltri sul libro? Sì, andiamo, dice, aiutarli in casa, a casa loro è un'idiozia, perché tanto se li prendono questi soldi soltanto i satrapi locali, e quindi anche aiutarli a casa loro è una stupidaggine. Infine è fondamentale, ve la segnalo, l'intervista di Luca Ricolfi, il sociologo a Libero, ancora un'altra volta. E Luca Ricolfi, quando gli dicono, ma Boeri, che uomo che lei stima, dice che c'è una convenienza di 1,7 miliardi all'anno nei prossimi vent'anni nell'accogliere tutti questi immigrati, Ricolfi dice, ho troppa stima intellettuale per Boeri, per non pensare che Boeri sappia la minchiata a caschetto, quindi insomma lo prende in giro, perché in realtà non è vero che c'è un vantaggio nell'accogliere i migranti, perché costano moltissimo in termini di aumento dei costi della salute, costa moltissimo in aumenti di criminalità e disagio sociale, costa moltissimo per le carceri che sono uno su tre fatte da immigrati, o lo dice un uomo di sinistra come Ricolfi, e poi dice, caro Boeri, perché hai finito la tua previsione al 2040? Cioè proprio l'anno in cui quei pochi immigrati che lavoreranno dovranno godere la pensione grazie ai contributi che hanno versato. Sostiene Ricolfi che il dato è stato fatto soltanto con i migranti che pagano contributi e non quando godranno della pensione, lì sì che cambiano i giochi, dice Ricolfi. E aggiunge Ricolfi, soltanto il costo dell'accoglienza dei migranti è superiore al vantaggio che avremo in termini di contributi sociali. Insomma, gli fa un mazzo così. Leggetevi Ricolfi e capite il mazzo che fa al suo amico Boeri. Andiamo avanti, ci sono i politici che oggi parlano, molti sulla proposta di Renzi nel suo libro di aumentare il deficit al 2,9%, lo fa Calenda, oggi in una lunga intervista del Corriere della Sera, non si candida al leader del centrodestra né del centrosinistra, ma Calenda dice che questa idea del deficit al 2,9% è ridicola perché bisogna cercare di capire per cosa farla, da se non vale. Del Rio invece dice che è molto buona l'idea di mollare il fiscal compact, quello che ci obbliga al 2,9%, direi che su questo c'è da discutere. Intanto il sole 24 ore lunedì fa sempre un dibattito, ma non solo lunedì, sulla flat tax, molto interessante come sempre oggi il dibattito, a favore Giovanardi, Andrea Giovanardi contro Gallo, più convincente ovviamente quello a favore Giovanardi, tra cui tira fuori una critica alla proposta del risultato Bruno Leoni, perché il risultato Bruno Leoni vuole per tutti l'imposta al 25%, ma vuole aumentare anche l'IVA al 25% e Giovanardi dice attenzione perché quello è pericolosissimo. Condivido al 100% con Giovanardi, nulla con Gallo ovviamente, il sole 24 ore per oggi ricorda anche quante flat tax in Italia già esistano ed è la grande tesi di Giovanardi. Salvini, intervistato da Repubblica, dice una cosa importante dal punto di vista politico perché dice, ci scopriamo un Salvini che dice una cosa fondamentale, forse un po' per far rosicare Berlusconi che ha trovato Marchionne o chi per lui come candidato del centrodestra, Salvini dice, non è escluso che con il Movimento 5 Stelle dopo le elezioni si possa fare un accordo, insomma una roba di quelle che qualifica i rapporti nel centrodestra, una cosa così, pensate un po' voi come la legge oggi Berlusconi. Stupende, due cose, intanto sul libro parla anche Giletti, devo dire che l'intervista è anche bella, ma non scioglie il dubbio, rimango in Rai, non rimango in Rai, quindi non vale la pena di leggerla, sicuramente verrà pubblicata da Dago Spie e da tutti quanti, però insomma se non ci dice, se non svolge, o che lo capisco, non è colpa della giornalista, ma se fa un'intervista in cui ancora non ci dice, se rimane o non rimane in Rai, ma che ce la leggevo a fare? I sassonini dalle scarpe si tolgono quando uno decide di mollare, penso. Sempre sul libro c'è una cosa stupenda, in prima pagina Capalbio, il paese che non voleva 30 immigrati e che l'anno scorso ha fatto un casino così sull'immigrazione, sapete che cosa fa Capalbio? Capalbio prende la nave dell'accoglienza, una statua de merda che però ha il racconto di come noi dobbiamo accogliere le persone, quindi loro che fanno? Si prendono la statua dell'accoglienza ma non si prendono gli immigrati? Beh, ovviamente Libero ci va a nozze, è una notizia che leggo solo da loro e questa è l'ipocrisia della sinistra libera italiana, non vogliono 30 immigrati nella loro ultima spiaggia, ma vogliono una statua che è una cagata, perché guardate la foto, fa schifo, meglio avere 10 immigrati che quella statua de merda in una spiaggia, e anche esteticamente fa schifo, però si puliscono la coscienza. Altra ultima cosa su cui voglio parlarvi è fantastica, è Repubblica, perché questa è la cattiva coscienza dell'imbecillità politicamente corretta italiana. Cosa fa Repubblica? Quali sono, con ilvo di Emeanti, le parole del futuro, le parole dei giovani, le parole in cui ci ritroviamo? E quali sono quelle che non piacciono? Non piacciono Grillo, non piacciono Berlusconi, non piacciono i partiti, non piacciono, non so, le parole che decidono questi qua, secondo non so quale cacchio di indagine che fanno. Quali sono le parole belle, le parole che piacciono Repubblica? Pagina 2 e 3 di Repubblica. Ambiente, energie rinnovabili, volontariato, cuore, e infine Papa Francesco. Queste sono le belle parole di Repubblica, io le metterò tutte in fila, che sono esattamente le cose che a me non piacciono e dietro le quali c'è l'ipocrisia dell'ipocrisia. In più, tra le parole che piacciono, ovviamente non piacciono politici, non piacciono Trump, non piacciono partiti, non piace Grillo e Cavaliere, come ho detto. Tra le parole che non piacciono, sì, Alessandro, c'è anche Raddo a qualche parte. Tra le parole che non piacciono, che piacciono moltissimo, c'è meritocrazia. È lì che io mi diverto. Perché meritocrazia vuol dire che se c'è qualcuno che merita, c'è qualcuno che demerita. Se c'è qualcuno che lo paghi bene, c'è qualcuno che lo devi pagare male. Se c'è qualcuno che licenzi, c'è qualcuno che assumi. Cioè meritocrazia non vuol dire essere tutti uguali, vuol dire dare i premi, dire che è più bravo, dare le medagliette, fare sì che chi meriti emerga. Bene, esattamente il contrario di tutte queste minchiate che ci raccontano a sinistra, che pensano che la meritocrazia sia una roba per cui tutti meritano. Nessuno deve rimanere indietro. No, con la meritocrazia rimangono indietro le persone che non meritano. Se no, non è meritocrazia. Se no, è uguaglianza per tutti. La meritocrazia ha un contenuto rivoluzionario, quella parola, che questi signori di Repubblica non capiscono. Perché, se lo capissero, saprebbero che l'ambiente e le rinnovabili sono stati uno dei costi maggiori per gli italiani, ma non solo gli italiani, nello spreco di risorse pubbliche. Saprebbero che abbiamo una bolletta energetica che costa 20 miliardi di euro per distruggere le nostre campagne con impianti fotovoltaici e eolici che non riescono a produrre energia elettrica quando essa serve davvero. Nel futuro lo faranno, certamente, ma oggi no. Non riescono a capire che volontariato vuol dire questa minchiata delle ONG che sulla logica del volontariato sta distruggendo un paese come l'Italia attraverso un'invasione vera e propria che non abbiamo il coraggio di chiamare invasione, che è quella fatta dagli africani, come dice Bill Gates, non come dice soltanto Salvini. Cuore è lo stesso cuore per il quale noi pensiamo che possiamo accogliere tutti. Non possiamo accogliere tutti. Possiamo accogliere soltanto chi merita, chi ha un lavoro e chi può essere utile a questo paese. E Papa Francesco è l'altro personaggio favoloso che ha spiegato che dobbiamo accogliere tutti mentre in Vaticano ovviamente lui non accoglie nessuno. Quando nel suo aereo andò in questi paesi africani e dovette portare perché fece questo gesto favoloso qualche africano in Vaticano, l'aereo aveva a disposizione 40-50 posti perché viaggia un aereo molto comodo il Papa Francesco come giusto che sia. Secondo voi riempì raso l'aereo o portò 4-5 persone? Portò 4-5 persone. Non poteva accogliere tutti nonostante l'aereo fosse grande. Insomma, vi leggete la parola sul Repubblica e capite che veramente il monumento all'ipocrisia è superiore alla nave dell'accoglienza che c'è oggi a Capalbio. Ciao!